Ma io senza dirti niente ti dico la verità Ne hai prese due? Grazie Una in futuro per me perché con sto stress comunque alla fine ricadranno un'altra volta i capelli E poi una l'ho presa per te Sei un amico ma lo sapevo C'era un motivo di grande ispirazione No però a parte questo la trovata è stata bella Bisogna dirlo quando ci sono trovate Goliardi è molto meglio queste trovate Goliardi Piuttosto che la violenza quindi complimenti ai tifosi viola Io e Bruno Bernardi siamo gelosi Non ci porta niente scusi Anche a noi la parrucca vero Bruno? Io sono lì Io ho il capello rosso però fa niente la metto viola Tu stai bene così Liberiamo il mister Grazie Grazie mille ad Antonio Conte